Ora mi trovo davanti, scusate, è la città di Manchester, è chiaramente la città di Manchester e mi trovo davanti alla probabile casa della leggenda del calcio inglese Harry McQuay Ora vedremo se è in casa, ma non lo so, poi non so dove sia l'entrata, se è di là o di là, non saprò proprio dove andare, io proverei da l'entrata piccolina, che là ragazzi vedo una luce accesa, vedo una luce accesa là, io proverei ad andare Ok guys, sto scendendo le scale Ragazzi, c'è, c'è le chiavi infilate, aspettate, vedete ci sono le chiavi infilate, posso provare a entrare, oddio, ragazzi, Sherry McGuire, hi Harry Hi Harry Hi Nice to meet you, I am Niccolo Harry McGuire Harry McGuire Harry, mio dio This fucking beautiful This is my home Yes, this is your home Why? My dio, Harry McGuire, selfie immediatamente, selfie immediatamente ragazzi Incredibile ragazzi, Harry, mi illustri un pochino la tua casa Home game Oh, it's cool It's perfect Yes This is my kitchen This is my bathroom sfondato This is my bathroom sfondato Harry, ma come cacchi No, no, it's me, it's Gaulio Mademeyes Chi è Gaulio Mademeyes? It's my slab This is my bedroom of Gaulio Mademeyes Questa è la stanza di Gaulio Mademeyes Guardi ragazzi, questo sono io E questo E questo E quello stupido This is my garden Come vedete ragazzi, guardate Cioè, poi diciamo che è fake questo video, no? Guardate Harry Lo sto accarezzando Harry My friends, vero? This is my garden Oh And my My guai This is my garden Oh And my Sorry This is your garden And this is my boots Oh, Harry This is the table in the sofa Here I have a spot Oh, Harry And this is my room Possibly OTV Ultimate Generations Yes This Oh, Fiorentina Do you like Fiorentina? Hi, this is my favorite spot di Italian And why don't you come there then? But Fiorentina don't have money to pay me To United I go It was a pleasure Bye Bye Bye